E' ben ritrovati ancora in diretta a Mattina Live, come leggete oggi parliamo di un argomento molto importante, è un po' delicato, conflitto sulla striscia di Gaza purtroppo interrotta la tregua che si stava cercando di aumentare, in questi giorni il conflitto si era fermato con il rilascio di diversi ostaggi, adesso cercheremo in qualche modo nel nostro piccolo di fare un po' un recap, cercheremo di ricostruire quella che è una storia di un conflitto che sta portando davvero tantissime vittime, tantissime perdite da entrambe le fazioni in una fazione in particolare, in questo caso oggi parliamo dagli occhi dei palestinesi palestinesi in Sicilia che sono organizzati, sono presenti, sono attivi, stanno facendo una serie di manifestazioni per fare sentire anche quello che è il loro parere, quello che è il loro cuore, in questo momento la loro sofferenza, lo facciamo insieme al Presidente dell'Associazione Voci nel Silenzio, nonché anche partecipanti, parte attiva e fondamentale della comunità palestinese in Sicilia, il signor Zahir Darvish, buongiorno, grazie di essere con noi. Buongiorno a voi e agli telespettatori. Grazie, iniziamo a fare il punto su questo conflitto che in questo momento sta interessando ovviamente un territorio delicato, ha fatto e continua a fare vittime israeliane e palestinesi. Purtroppo questa è la continuazione di una situazione così drammatica che dura per quello che riguarda la striscia di Gaza almeno da 16 anni, perché la striscia di Gaza, 2 milioni 300 mila persone, vive un costante embargo che rende le azioni normali e quotidiane della vita delle persone pressoché impossibili. Quindi quello che sta succedendo purtroppo è una conseguenza di questi 16 anni di totale di deprivazione. Chiaro, quindi non è nato tutto il 7 ottobre scorso. Assolutamente no. Si sta parlando di una guerra che è cominciata almeno nel 67 ma ancora prima, negli anni già 40-50, sarebbe da fare una lezione di storia di quello che è stato questo conflitto. Però in questo momento quello di cui si sta parlando è ovviamente a partire dal 7 ottobre. Cosa è successo il 7 ottobre e dal vostro punto di vista che cosa sta accadendo in questo momento? Guardi, la popolazione palestinese nella striscia di Gaza vive, come dicevamo, una situazione letteralmente soffocante. Gli elementi essenziali, principali, fondamentali a quello che noi riteniamo una vita normale mancavano da decenni nella striscia di Gaza, ma anche nei territori occupati. Il 7 ottobre è uno dei momenti in cui il popolo palestinese cerca di richiamare l'attenzione anche internazionale sulla situazione. Noi abbiamo provato continuamente nel tempo a richiamare l'attenzione mondiale sulla situazione nella striscia di Gaza. Purtroppo l'attenzione è stata insufficiente affinché le cose cambiassero nella striscia di Gaza, ma anche nei territori occupati. Io vorrei ricordare a tutti che al 23 agosto di quest'anno, quindi ben prima del 7 ottobre, erano già 200 persone le vittime delle aggressioni israeliane nella striscia di Gaza. Solo al 23 agosto. E questo ogni anno abbiamo a che fare con questo tipo di numeri, perlomeno. Allora, cerchiamo di fare una sorta di chiarezza. Insomma, stiamo semplificando una situazione che ovviamente è molto complessa, però il punto principale è che i palestinesi sono costretti in questo momento a vivere una sorta di lockdown che è partito tantissimo tempo fa. Nel 2005 sembrava, dal punto di vista culturale, essere stata liberata la possibilità per i palestinesi di essere dei palestinesi e non appunto sottostare ai voleri di Israele, cosa che comunque non è effettivamente avvenuta. Nel senso che Israele ha continuato a controllare gli spazi aerei, ha controllato le comunicazioni, ha controllato addirittura la nagrafe. Insomma, tutti i palestinesi dovevano in ogni caso passare da quello che era il volere militare di Israele. E questo ovviamente li ha portati, dopo tantissime vicende orribili, a soffrire moltissimo di questo. E ovviamente in questo momento Hamas, che è un'organizzazione politica che ha tantissimi militanti armati, ha reagito in questo modo. Ha reagito in quello che viene definito un attacco, un vero e proprio attacco terroristico che ha portato la morte di tantissimi civili. Quindi dal vostro punto di vista in questo momento la situazione ovviamente è critica e la cosa importante da dire è che i palestinesi non sono tutti quanti facenti parte di Hamas e probabilmente anche loro non sono d'accordo con questo modo di fare le cose. Però lo chiedo a lei. Nello scenario politico palestinese ci sono diverse formazioni. Facciamo un po' di chiarezza, al meglio di lei non ce lo può spiegare nessuno. Ci provo, spero di essere. Ci sono diverse formazioni politiche, ci sono quelle di esperazione religiosa così come per esempio anche in Italia c'era la DC ma c'era anche il PC, così come ci sono i movimenti di esperazione di sinistra all'interno dello scenario politico palestinese come il fronte popolare per la liberazione della Palestina o il fronte democratico. Come c'è anche al Fatah, sono delle componenti fondamentali all'organizzazione per la liberazione della Palestina, unico legittimo rappresentante del popolo palestinese. Nella striscia di Gaza, ma anche in considerazione del silenzio e dell'insufficiente attenzione mondiale a quello che avviene in Palestina, Hamas ha avuto occasione e possibilità di avere la maggioranza e il voto degli abitanti nella striscia di Gaza quando era stato possibile fare delle elezioni, perché con una situazione soffocante è pressoché impossibile svolgere delle azioni politiche, democratiche, eccetera. Hamas ha attualmente il governo delle città. Ma che ruolo ha l'Italia all'interno di questo conflitto? Il vero ruolo dell'Italia, non quello che vediamo solo dai mass media. Complice purtroppo, complice. Ricordo che siamo a circa 20.000 vittime, dei quali circa 8.000 bambini, un milione e mezzo di rifugiati. La distruzione pressoché tutale sono presi di mira tutte le strutture, anche sanitarie, e laddove si pensava che il semplice cittadino poteva rifugiarsi per non subire i bombardamenti, anche lì hanno bombardato persino le ambulanze, le ospedali, quando le era stato detto andate verso sud. Anche le ambulanze verso sud sono state bombardate. Colleghi vostri giornalisti, oltre 40, sono stati assassinati. Le nostre basi militari sono a disposizione di Israele, vengono utilizzati anche attualmente, noi assieme ad una serie di soggetti della società civile abbiamo organizzato fino all'altro giorno un corteo a Sigonella perché riteniamo che il nostro paese, l'Italia, debba assumere tutt'altra posizione, tutt'altro impegno piuttosto che favorire la guerra. Può assumere un ruolo fondamentale per fare sì che il popolo palestinese finalmente abbia i propri diritti. Certo, ma anche oggi avete organizzato una manifestazione l'1 dicembre, voi dell'Associazione. Poi la Sicilia in modo particolare, ma anche Palermo, è legata al popolo palestinese da decenni, è legata anche concretamente da accordi di gemellaggio, Alcamo, ma anche Palermo, sono legati a Cagnunes, città al sud della striscia di Gaza, come a Betlemme, da accordi di gemellaggio. Infatti noi abbiamo scritto al Presidente della Regione Siciliana, al Presidente dell'Assemblea regionale, al Sindaco, al Presidente del Consiglio Comunale, chiedendo intanto di incontrarli e vedere, di avviare delle attività, delle azioni solidali con il popolo palestinese di sostegno. E avete avuto risposta dall'amministrazione? Speriamo di averle a quanto prima, purtroppo i segnali che sono stati dati sono segnali ambigui per utilizzare delle parole gentili, potrei dire alle volte anche complici. Certo, è una situazione molto complicata, quindi io volevo capire questo dal vostro punto di vista, cioè la richiesta e le manifestazioni sono sicuramente per l'idea di una Palestina libera dal vostro punto di vista, è più che giusto, però in questo momento, la violenza sta scatenando altra violenza, ovviamente sono anni che questa situazione è veramente pesante per tutte e due, soprattutto per i palestinesi in questo momento, mi sento di dire, ma l'attacco che parte da Hamas ha ovviamente scatenato le ire di tutti, è l'idea del terrorismo e quindi in questo momento Hamas uguale terrorismo, dunque palestinesi uguale a Hamas, questa cosa è quello che sentite? È il racconto mediatico purtroppo che vuole fuorviare rispetto a quello che è l'attuale, ma lo dicono anche i numeri, non è una questione solo e semplicemente di una opinione, se ci sono 20.000 vittime, dei quali circa 8.000 bambini, 4.000 donne, io non capisco come mai non si possa utilizzare gli stessi termini nei confronti dello Stato di Israele. Si è una facilità enorme ad utilizzare, ad abbinare il termine terrorismo a chi pretende giustizia, diritti, sanciti dalle organizzazioni internazionali, ma si ha tutte le difficoltà, anzi si utilizzano termini quasi legittimanti affinché Israele continua la propria opera terroristica e criminale nei confronti del popolo palestinese. Se una volta tanto si utilizzano pari strumenti, pari descrizioni, pari oggettivi, forse riusciamo a contribuire a cambiare. Se si pensa che il terrorismo sta soltanto da una parte e dall'altra parte sta il diritto, io credo che facciamo un torto a oltre 2.300.000 palestinesi. Certo. Perché purtroppo i numeri sono questi, Roberta. Effettivamente in questo momento il numero maggiore di morti si stanno avendo nei palestinesi. Quindi c'è stato un attacco e questo è poco ma sicuro. E noi condanniamo questo tipo di violenza, io mi sento appunto, immagino anche tu, di appunto ascoltare ovviamente le parole di Zahair e il suo punto di vista che può essere condivisibile o meno. Ma in questo caso stiamo parlando di violenza, di morti che portano altra violenza. I numeri sono effettivamente preoccupanti perché la reazione in questo momento di Israele è stata diciamo soverchiante, è pericolosissima, è davvero devastante. Ma lei che è presidente di questa associazione Voci nel Silenzio, quali sono le richieste di cui lei si fa portavoce? Esatto, vogliamo capire esattamente che cosa vorreste. Cioè concretamente voi di questa associazione, quale contributo date in questo momento? E che cosa vorreste? Esatto. Stiamo tentando appunto di attivare sia i canali politici ma anche i canali umanitari. Dal punto di vista politico abbiamo scritto anche al Presidente del Governo italiano così come anche al Presidente della Commissione europea perché riteniamo che abbiano assunto una posizione complice del crimine in atto nei confronti della popolazione. Complice è diciamo un aggettivo abbastanza insomma importante. Certamente hanno assunto un atteggiamento legittimante di tutto quello che ha avuto e sta facendo Israele in confronti del popolo palestinese. Riteniamo uno che la posizione che debba essere assunta sia uno cessare il fuoco immediatamente altrimenti... Io stavo aspettando che lei dicesse proprio questo perché volevamo capire da che punto appunto state affrontando la questione. Prego. Appunto una richiesta vera però di cessare il fuoco e imporlo ad Israele e imporre ad Israele il riconoscimento dei diritti sanciti e dalla Carta internazionale dei diritti dell'uomo ma anche le risoluzioni dell'ONU sono state tutte non rispettate da Israele. Dopodiché i canali di solidarietà nei confronti della popolazione devono essere immediatamente disponibili. Israele ha impedito tutto, acqua, luce, corrente elettrica alla popolazione della striscia di Gaza. Gli ospedali li ha bombardati. Questa è la situazione. Noi abbiamo avuto in tutte le azioni che abbiamo organizzato una partecipazione vera, sincera della popolazione di Palermo, della Sicilia. Purtroppo il livello politico è totalmente distaccato e non rappresenta il sentimento diffuso dei siciliani e questo è un dramma che stabilisce anche perché la gente in Sicilia, io sono siciliano, sono palermitano, non si fida più della politica. Circa il 50% non partecipa alle tornate elettorali del Paese perché c'è una distanza e qui ancora è molto abissale la distanza tra la politica e il sentimento popolare che abbiamo sempre avuto e ci ha sostenuto in questi tempi. Quindi ad oggi lei non ha, insieme all'associazione di cui è Presidente, non ha ricevuto un contributo vero, concreto di quello che vorrebbe lei da parte dei siciliani, in questo caso da parte della politica. Guardi, siamo riusciti quasi quasi solo e semplicemente con una forzatura a fare alzare la bandiera palestinese al palazzo di città. Io lo tengo che sia clamoroso e rispettoso nei confronti delle vittime, nei confronti di una città con la quale siamo legati da accordo di gemellaggio. Non si può stare a guardare mentre i nostri gemelli stanno subendo. Io mi appello al Sindaco, al Presidente della Regione Siciliana di assumere un atteggiamento totalmente diverso da quello che hanno assunto perché rischiano una complicità disumana al crimine che il popolo palestinese sta subendo. Perché secondo lei ancora non rispondono? Una scelta difficile, politicamente è una scelta difficile. Io temo che il quadro generale politico compromesso dalle posizioni della Commissione Europea ma anche dal governo italiano abbia anche compromesso i sentimenti di chi sta nei palazzi delle città siciliane. Ma qualora si cessasse improvvisamente il fuoco? Ok, la politica si muove, finalmente Netanyahu decide di fermare questa strage terribile, ma secondo lei a masse i palestinesi si fermano anche loro? È finita la guerra? Non è soltanto se c'è il cessato il fuoco, ma continua l'occupazione. Questa è la domanda che volevo fare. Resta purtroppo una miscela esplosiva. Al cessato il fuoco deve immediatamente dare avvio al riconoscimento dei diritti del popolo palestinese, alla creazione del proprio Stato libero, democratico, laico, dove tutti possono vivere. Palestinesi ma anche cittadini ebrei che vivevano di già in Palestina e avevano rapporti di amicizia, di fratellanza e non come uno Stato che nell'animo è un Stato purtroppo devo dire criminale. Quindi la comunità in questo momento ha questo sentimento. Da una parte la liberazione della Palestina, da un'altra parte il cessato il fuoco. Dal punto di vista culturale, lei che ha ogni giorno a che fare con palestinesi e non, come la sta vivendo il popolo in questo momento palestinese, sta cercando di capire come muoversi, sta empatizzando. Cosa sta succedendo in Sicilia in questo momento con quelli che lei riesce ogni giorno ad incontrare? Tutti i palestinesi naturalmente hanno una partecipazione umana, stanno soffrendo, stiamo soffrendo tutti per quello che sta avvenendo. Ma siamo fiduciosi, siamo fiduciosi in quello che è il nostro diritto storico. Non ce lo potranno togliere mai nessuno Stato, nessuna organizzazione, nessun organismo. Il più terrorista che possa esistere non ci toglieranno mai la nostra convinzione nei nostri diritti sacrosanti, permettetemi il termine, storici nella nostra terra, nella Palestina. Siamo convinti che ci torneremo e creeremo il nostro Stato dove tutti potranno vivere liberamente e democraticamente. Signor Darwish, vuole fare un appello? C'è la telecamera 4 per lei? Io spero che chi ci rappresenta nelle istituzioni, a partire da quelle siciliane, ma anche nazionali, abbiano la capacità e il coraggio che il popolo siciliano ha espresso in questi giorni con la propria solidarietà al popolo palestinese, la condivisione dei propri diritti e delle proprie battaglie. La politica assuma il coraggio della popolazione civile. Io direi che questo è un punto importantissimo anche perché alla fine in questi conflitti coloro che davvero soffrono sono entrambe le parti e soprattutto chi vive. La popolazione sta soffrendo anche quella appunto ebraica che in questo momento si ritrova anch'essa a morire, si ritrova con i propri soldati che vanno a fare la guerra per un sentimento che si, a volte rappresentato, a volte meno. Quindi in questo momento stiamo cercando, tutti ci auguriamo che possa ritornare questa tregua, che si possa trovare una soluzione come diceva appunto il nostro rappresentante della Palestina, ma soprattutto sembra un po' banale da dire, però un messaggio di pace davvero perché non è più possibile. Cioè questo conflitto sta durando davvero tempo. Anche perché alla fine di tutto, se ci sarà mai una fine, visto che insomma ci ha confermato che da più di 16 anni continuano queste guerre interne, non esistono né vinti né sconfitti. Non ce ne sono, siamo tutti sconfitti. Praticamente sì. C'è purtroppo la sconfitta di chi crede in principi alti, finché si permetta ad Israele di continuare a fare quello che vuole in corante delle condanne oltre 70 delle Nazioni Unite se non si cambiano questi parametri. Ma siamo fiduciosi, siamo fiduciosi. Il popolo palestinese è fiducioso. Bene. Grazie mille per essere stato con noi, Zahir Dervis. Grazie a voi. È importantissimo parlare di questo argomento con lei. Speriamo di poterlo fare per una questione positiva. Magari riusciamo ad invitarla nuovamente quando si sarà affermato tutto questo. Ce l'auguriamo ogni giorno e ogni minuto della nostra vita. Grazie Roberta per essere stata con me anche in questa avventura di questa settimana mattina live. Ce l'abbiamo fatta. Il nostro tempo è finito in questo momento. Con questo messaggio che speriamo possa essere in qualche modo d'augurio di un cessato il fuoco. Ci terremo aggiornati anche la prossima settimana, sperando appunto di avere notizie migliori. Allora Roberta, noi ci riaggiorniamo con il telegiornale. Assolutamente, non cambiate canale, restate sintonizzati con tutti i programmi di Tele One, in particolare il telegiornale, alla prima edizione 13.30, seconda edizione 19.30, con tutte le informazioni e aggiornamenti da tutta la Sicilia. Continuate a seguirci perché fra poco la rubrica 16 live, dunque argomenti importanti che sono molto seguiti e per cui vi ringraziamo sempre, è una rubrica storica. Quindi restate con noi, noi due ci rivediamo.